Dall'esordio sono passati qualche anno e qualche partita in più, ecco, ho fatto un po' di esperienza con il Genoa, ho fatto qualche partita, poi sono andato all'estero, ho sempre più o meno sempre giocato, quando potevo ho sempre giocato, anche a Vicenza più o meno l'ho fatte tutte, fa solo che piacere perché giocare è importante, mette in bagaglio tanta consapevolezza dei propri mezzi così si affrontano le prossime giorni con qualcosa in più.